Ancora disagi in provincia di Arezzo a causa del maltempo, bloccato il traffico ferroviario sul binario 1 della stazione di Arezzo a causa della parziale scoperchiatura del tetto di un magazzino che costeggia appunto quel binario. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Arezzo, la polfera e il personale del gruppo ferrovie di Stato, la struttura era già stata lesionata nell'ultima bufera di vento, ma le forti raffiche di vento hanno causato molti problemi anche in varie parti della città. Decine gli interventi per rimuovere pianti cadute, rami pericolanti e comignoli di velti. Questa mattina un intervento è interessato la centralissima piazza Sant'Agostino, ma già ieri una pianta era caduta sopra una casa a causa del forte vento in località Puglia. Gli interventi dei vigili del fuoco hanno comunque interessato l'intera provincia di Arezzo. In Casentino, a Badia Prataglia, la regionale 71 è stata interrotta verso i mandreoli per il crollo di una pensilina.